In questi giorni di prova, mentre l'umanità trema per la minaccia della pandemia, vorrei proporre a tutti i cristiani di unire le loro voci verso il cielo. Invito tutti i capi delle Chiese e il leader di tutte le comunità cristiane, insieme a tutti i cristiani delle varie confessioni, a invocare l'Altissimo Dio Onnipotente, recitando contemporaneamente la preghiera che Gesù, nostro Signore, ci ha insegnato. Invito dunque tutti a farlo parecchie volte al giorno, ma tutti insieme a recitare il Padre nostro mercoledì prossimo 25 marzo a mezzogiorno, tutti insieme. Nel giorno in cui molti cristiani ricordano l'annuncio alla Vergine Maria dell'incarnazione del Verbo, possa il Signore ascoltare le preghiere unanime di tutti i Suoi discepoli che si preparano a celebrare la vittoria del Cristo risorto.